Musica Tetti scoperchiati, alberi abbattuti, allagamenti sono le conseguenze di una violenta tromma d'aria che si è abbattuta fra Rocca, Bernarda e Cutro, danneggiato anche un treno, feriti lievemente i passeggeri. Sempre più preoccupante è il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri della Calabria, il dato fa il paio con l'indagine di Demoscopica che certifica la fuga di 180.000 giovani in 15 anni. 2.900 gli incidenti stradali in Calabria nel 2017 che hanno causato la morte di 100 persone. Una bottiglia incendiaria è stata rinvenuta nei pressi di un'azienda impegnata nel settore turistico a Ricadi, il titolare e il coordinatore zonale della Lega. Le telecamere di sorveglianza beccano un operaio mentre intento ad abbandonare i rifiuti speciali in un'area verde di Cosenza. Manifestazione di protesta a Chiara Valle per sollecitare interventi per fermare l'invasione dei cinghiali. Buonasera dalla redazione di Tele Europa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo dell'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore nella nostra regione. Fra le zone più colpite c'è il crotonese, tetti scoperchiati e anche alberi abbattuti ma anche allagamenti. Sono le conseguenze di una violenta tromba d'aria che si è verificata fra Rocca, Bernarda e Cutro. Danneggiato anche un treno, feriti lievemente i passeggeri. Isabella Rocca. Ecco cosa rimane dopo la tromba d'aria che questa mattina ha colpito la calabria ironica. Fortissimi venti di scirocco, violenti temporali e piogli potenziali hanno creato danni e disagi. Situazione critica a Crotone e in modo particolare a Cutro. Qui il vento ad oltre 150 km orari ha tradicato alberi, distrutto auto, scoperchiato tetti. Una mattinata da incubo per gli abitanti della zona. E' tanta paura per i passeggeri di questo convoglio sulla tratta Catanzaro-Lido-Crotone investito all'altezza della stazione di Rocca-Bernarda da una tromba d'aria. Il forte vento ha fatto ondeggiare paurosamente il treno che fortunatamente è rimasto sui binari. Sei finestrini sono andati in frantumi e due passeggeri sono stati portati in ospedale, ma nessuno ha riportato gravi ferite. Il convoglio è stato poi spostato nella stazione di Bottricello per liberare la linea ferroviaria. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Trenitalia. La circolazione ferroviaria sulla linea Crotone-Catanzaro-Lido è stata sospesa. La forte pioggia ha infatti provocato tre smottamenti tra Isola Caporizzuto e San Leonardo di Cutro. Al lavoro oltre 20 tecnici di rete ferroviaria italiana per ripristinare circa 110 metri di infrastruttura ferroviaria. E intanto Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Crotone e Catanzaro-Lido. Ancora il maltempo. Sono cinque i torrenti esondati in provincia di Crotone a causa proprio delle forti precipitazioni che si sono registrate per l'intera giornata. I corsi d'acqua esondati sono il Passo Vecchio, Fallao, Ponticelli, Falcosa e Chiacchiavia, oltre a numerosi canali di scolo. Il punto della situazione è stato fatto nel corso di una riunione dell'unità di crisi convocata proprio in prefettura che sta monitorando costantemente la situazione. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili dei fuochi e dei carabinieri in tutto il territorio provinciale, in particolare nei comuni di Crotone e Cutro, interessati da movimenti franosi, smottamenti ed esondazioni a Crotone in altri centri della provincia proprio in corso, ripristino in alcune cabine di bassa tensione dell'Enel che hanno subito danni provocando anche l'interruzione dell'energia elettrica per circa 800 nuclei familiari. Cambiamo adesso argomento, parliamo del sempre più preoccupante fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri della Calabria. Il dato però fa il paio con l'indagine di Demoscopica che certifica proprio la fuga di 180.000 giovani in 15 anni. C'era una volta l'immigrazione, quella degli italiani del secolo scorso che abbandonavano il nostro paese in cerca di migliori fortune, un fenomeno che si era attenuato nel corso degli ultimi decenni nel periodo di massimo sviluppo economico dell'Italia e che è tornato prepotentemente di attualità, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. In Calabria alcune località hanno più del 50% dei cittadini che ha cambiato residenza trasferendosi all'estero. Morano, Cariati, Fuscaldo sono solo alcuni centri svuotati dalla crisi della necessità di cercare nuove occasioni di lavoro e vita. E naturalmente, a fare le valigie, sono i più giovani, i cosiddetti cervelli in fuga da una regione che non offre possibilità neanche ai più meritevoli. L'erodeputata calabrese Laura Ferrara commenta il continuo flusso di partenza dalla Calabria e la perdita di risorse preziose. Ancora una volta arrivano dei dati allarmanti che riguardano la nostra regione. Abbiamo centinaia di migliaia di cittadini calabresi che vanno altrove in cerca di un futuro e di maggiori certezze. Formiamo nelle nostre scuole, nelle nostre università, giovani, laureati, che poi sono costretti ad andare all'estero dove vige la meritocrazia e viene garantita loro una maggiore certezza e perdiamo dunque un patrimonio umano inestimabile nella nostra regione. Questo è il frutto purtroppo anche di politiche regionali fallimentari che hanno preferito invece puntare su stagio e tirocine, ad esempio nella pubblica amministrazione con l'illusione di una stabilizzazione senza però poi offrire le reali condizioni per garantire la stabilizzazione stessa. Il risultato è quello che ben conosciamo. Abbiamo interi comuni che si stanno spopolando, tantissimi giovani neolaureati che vanno ad offrire le proprie competenze all'estero oltre confine e tanti lavoratori che restano in Calabria imbrigliati nel precariato e che chiedono giustamente che venga loro garantito il loro diritto a ricevere sia degli adeguati trattamenti salariali sia adeguati trattamenti previdenziali. Fin qui la fuga dei cervelli ma facciamo un piccolo passo indietro. Torniamo al maltempo che ha colpito proprio l'area del Crotonese perché il sindaco di Cutro, Salvatore Di Buono, ha disposto la chiusura proprio del plesso scolastico di Piazza Di Buona per i danni causati dalla tromba d'aria che oggi ha scoperchiato il tetto dell'edificio. La scuola resterà chiusa per alcuni giorni al fine di consentire proprio le verifiche tecniche e di eliminare eventuali situazioni di pericolo. Cambiamo ancora argomento. Parliamo del report proprio sugli incidenti stradali redatto dall'Istat perché vede la nostra regione ai primi posti ma con un calo per fortuna delle vittime. La 106 si conferma strada della morte insieme alla strada statale 18. La Calabria è fra le regioni con un tasso elevato di incidenti stradali. Pensate che nel solo 2017 se ne sono verificati ben 2.910 che hanno causato la morte di 100 persone e il ferimento di altre 4.863. Un dato che però secondo l'Istat rispetto al 2016 è in controtendenza con quello nazionale con un aumento degli incidenti del più 2,1%. O una diminuzione del numero delle vittime in Calabria nel periodo che va dal 2001 al 2010 le vittime si sono ridotte del 20% pari alla metà della media nazionale ma secondo il Focus redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica nel 2017 l'incidenza degli utenti vulnerabili per età, bambini, giovani e anziani deceduti è superiore alla media nazionale 60% contro il 45,2%. Nel periodo 2010-2017 l'incidenza di pedoni deceduti è più che raddoppiata in Calabria e anche nel resto del paese si registra un aumento sensibile dunque tutto questo genera anche un aumento sul fronte dei costi sociali nel 2017 stimato a 388 milioni di euro in Calabria la regione incide per il 2,2% sul totale nazionale. inutile dire che le arterie dove avvengono maggiori sinistri sono lungo la zona costiera sulla statale 18 e la statale 106 e nei comuni capoluogo di provincia inoltre secondo l'Istat il numero degli incidenti è distribuito abbastanza regolarmente nell'anno con picchi evidenti nei mesi di esodo estivo e durante le festività invernali in Calabria il 44,7% degli incidenti stradali è concentrato nei poli urbani considerando anche le aree di cintura che comprendono i comuni più prossimi ai poli e si arriva al 59% del totale incidenti che nella maggior parte dei casi avvengono tra due o più veicoli la tipologia più diffusa è lo scontro frontale e laterale seguito dal tamponamento nell'ambito dei comportamenti errati di guida si segnala il mancato rispetto delle regole di precedenza la velocità troppo elevata e la guida distratta e ha scelto di celebrare l'anniversario della firma della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a Cosenza all'ospedale dell'Annunziata dove da poco è entrata in funzione la terapia intensiva pediatrica il garante per l'infanzia della regione Calabria Antonio Marziale nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ma sentiamolo proprio nella nostra intervista eccola la terapia pediatrica dell'Annunziata di Cosenza una storia che parte da lontano e che oggi proprio nella giornata dedicata ai diritti dell'infanzia trova realizzazione con un traguardo importante in una giornata cruciale per la conquista dei diritti dei bambini la terapia intensiva pediatrica era qualcosa che in Calabria non c'è mai stato era l'unica regione d'Italia a non averla il che significa che ci sono dei bambini che possono essere soccorsi prima se immaginiamo il tempo che si impiega per portarli al gaslini a Genova o a Roma o a Napoli e significa anche drenare emorreggie economiche nelle tasche di famiglie estremamente indigenti adesso la rianimazione pediatrica c'è sono passati più di 30 bambini sono stati salvati più di 30 bambini da un'equip meravigliosa che lavora all'annunziata a Cosenza c'è il primario di questa nuova il dirigente di questa nuova realtà che è il dottore Gualtieri ha fatto da sovraintendente tecnico diciamo ai lavori il dottore Scarpelli e il tutto sotto la regia del direttore generale Achille Gentile quindi un grande gioco di squadra per garantire ai bambini un diritto fondamentale il primo dei diritti fondamentali che è il diritto alla salute questo non significa celebrare infatti non abbiamo fatto né inaugurazioni né abbiamo fatto tagli di nastri questo significa che noi nel quotidiano dovremmo ordinariamente occuparci di garantire ai bambini i servizi dovuti questo significa che è una cosa fatta ma purtroppo ce ne sono tantissime altre da fare ma significa anche che quando ci sono uomini di buona volontà nelle istituzioni e lavorano per il bene comune il gioco di squadra porta dei risultati allora più che celebrare regaliamo ai bambini qualcosa che gli è dovuto che avrebbe dovuto esserci già da chissà quanto tempo parliamo adesso dell'emergenza cinghiale a Chiaravalle perché protestano i cittadini che chiedono interventi immediati centinaia di persone riunite in piazza Calvario a Chiaravalle centrale hanno manifestato per chiedere alle istituzioni di occuparsi della questione cinghiali l'incontro pubblico è stato organizzato dall'associazione Chiaravalle Propositivo negli ultimi tempi nel territorio delle Preserre del basso Ionio Catanzarese in particolare la presenza dei cinghiali è diventata un problema si tratta di un fenomeno molto invasivo e pericoloso che ha creato preoccupazione nella cittadinanza non si tratta infatti di una questione di carattere meramente economico e limitata ai continui ranneggiamenti alle culture agricole ma anche a carattere ecologico e sociale l'attraversamento delle strade da parte dei cinghiali ad esempio mette a rischio l'incolumità degli automobilisti non sono mancati nell'ultimo periodo incidenti provocati dal fortuito incontro con uno dei tanti animali presenti anche in aree abitate il numero degli esemplari presenti sul territorio sostengono i vertici dell'associazione è aumentato a causa dei ripopolamenti degli incroci con razze diverse da quella locale effettuati per fili menatori se in passato erano soltanto gli agricoltori a preoccuparsi e a protestare adesso gran parte della cittadinanza avverte il problema e chiede le soluzioni immediate e si è svolto a Catanzaro presso la sala verde della cittadella regionale il convegno proprio sul tema diritto all'istruzione degli alunni sordi promosso dall'ente nazionale Sordi Calabria con la finalità di promuovere il raccordo fra enti istituzioni e associazioni per le azioni integrate di supporto all'inclusione degli alunni con disabilità uditive al giorno d'oggi è fondamentale garantire il servizio di assistenza scolastica a tutti gli studenti disabili e il trinomio sordità istruzione integrazione rappresenta un importante tassello nella storia dell'educazione di chi purtroppo ha delle disabilità uditive in passato le scuole speciali e la diffusione della lingua dei segni hanno dato inizio agli interventi sull'istruzione dei soggetti sordi e successivamente a stimolare l'interesse nei confronti dell'integrazione di questi all'interno del contesto scolastico oggi il quadro si presenta un po' più complesso l'attuale metodo di inserimento degli studenti sordi nelle classi comuni non ha contribuito a realizzare un sistema di istruzione che offra sufficienti possibilità di integrazione la didattica speciale del bambino sordo necessita quindi di essere rivisitata nell'accessibilità dei contenuti scolastici sia di acquisire i parametri adeguati e necessari per ridurre le difficoltà comunicative dell'alunno sordo nella scuola di tutti l'impegno è quello di promuovere un decreto legge che in realtà è già in direttura di arrivo che propone il superamento del barriere della comunicazione e soprattutto prevede per la prima volta il riconoscimento ufficiale della lingua dei segni italiani e della lingua dei segni italiani tattili fino a prima di questo decreto prima di questo governo l'Italia era fra le ultime regioni d'Europa a non avere ancora ufficializzato il riconoscimento di questa lingua nazionale dei segni dopo questo decreto legge finalmente si riuscirà a normalizzare anche questa tematica che è una tematica molto importante l'obiettivo del governo è quello di dare la possibilità a migliaia di non udenti di poter accedere alla comunicazione nel modo più normale possibile è possibile realizzare la vera integrazione degli studenti sordi nelle scuole comuni ma per poter concretizzare questo obiettivo è fondamentale che le metodologie didattiche siano sottoposte a revisioni e trasformazioni adattate alle esigenze comunicative degli alunni sordi nei confronti dei quali devono essere messe a disposizione tutte le soluzioni possibili per apprendere in maniera naturale partendo magari dall'utilizzo della lingua dei segni abbiamo 300 alunni sordi dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore noi quello che vogliamo è un maggiore impegno affinché sia riconosciuta la figura dell'assistente alla comunicazione perché qui in Calabria vengono affidate poche ore a questo tipo di assistenza e quindi l'ente nazionale insieme alle istituzioni vuole impegnarsi per che questo diritto sia completamente garantito alle persone sorde anche il nostro presidente nazionale ha in agenda una serie di appuntamenti con il MIUR per sancire questo sacrosanto diritto adesso parliamo di cronaca che ci porta a Castrovillari dove un uomo di 46 anni e una donna di 45 approfittavano del fatto che dei clienti lasciavano le borse incustodite per rubare loro i bancomat e i relativi codici PIN ed effettuare arbitrariamente dei prerievi e l'accusa in base alla quale i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari i titolari di un salone da parrucchiere compagni nel lavoro e nella vita la donna secondo la ricostruzione dei carabinieri distraeva le clienti consentendo proprio al complice di impossessarsi furtivamente dei bancomat che poi una volta effettuati i prelevi illegali rimettevano nelle borse delle proprietarie che così non si accorgevano di nulla i due arrestati sono stati fatti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare messe su richiesta della procura della Repubblica di Castrovillari i reati contestati sono furto aggravato e appropriazione in debita adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca Intimidazione a Riccari nel Bibonese e nel Mirino l'imprenditore Roberto Incoronato vicepresidente del Consorzio Bru Calabria e coordinatore territoriale della Lega di Salvini ignoti hanno lasciato nella notte davanti al cancello di una struttura turistica di proprietà dell'imprenditore una bottiglia contenente liquido infiammabile e un accendino numerosi gli attestati di solidarietà all'imprenditore dopo il finistro messaggio beccato dalle telecamere del comune di Cosenza mentre abbandona rifiuti speciali il video immortale un operaio che scarica oltre 10 pneumatici numerosi appostamenti e le fototrappole piazzate dal nucleo decoro urbano hanno consentito di risalire ad una nota ditta di castro libero la quale è stata deferita all'autorità giudiziaria i carabinieri di scandale nel crotonese hanno arrestato un 42enne per il possesso di armi antiche durante una perquisizione domiciliare hanno trovato tre pistole funzionanti e prive di numero di matricola aggredisce un anziano al culmine di una vita è arrestato un quarantenne lamettino quando la polizia è intervenuta in un condominio dopo una segnalazione giunta al 113 lo hanno trovato con il piede di uno sgabbello in plastica mentre colpiva ripetutamente l'anziano sul pavimento il quarantenne è stato arrestato per lesioni aggravate minacce e violazione di domicilio l'anziano è stato trasportato in ospedale 10 kg di marijuana trovati in un casolare nel reggino nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri in una zona collinare di marina di gioiosa ionica scoperte anche un centinaio di cartucce per fucile adesso parliamo di due intimidazioni persone non identificate non hanno dato fuoco al cancello secondario del centro di prima accoglienza di recupero per tossicodipendenti Maranatà situato in località Martidi nel comune di Mileto l'episodio è avvenuto proprio nella tarda notte mentre ancora Taurianova sotto i riflettori per un fatto incendiario perché questa volta di Mila è stata presa l'autovettura di Marianna Versace consigliere comunale di Forza Italia allertata dai vicini che alle prime ore dell'alba hanno notato il fumo le fiamme sono state domate grazie all'intervento dei vigili del fuoco la consigliera Versace madre di tre figli si era candidata nella lista proprio a testa a sostegno di Fabio Sconti lascia la maggioranza dopo pochi mesi per passare ai banchi dell'opposizione sedendo proprio al canto al leader degli innamorati Roy Biasi alle politiche si schiera a sostegno dell'onorevole Francesco Cannizzaro al momento però non si conosce la matrice del fatto criminoso sul quale stanno indagando i carabinieri di Taurianova adesso ci sposiamo a Vivo Valencia per un accordo fra Conf edilizia e amministrazione comunale per pagare meno tasse l'amministrazione comunale lo considera un passo importante per la città e per questo voluto sancirlo con un incontro nella sala del consiglio comunale si tratta della sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per i contratti concordati di locazione che a giudizio del sindaco Costa dimostrano l'interesse della comune verso un settore come quello immobiliare che da tempo soffre una crisi profonda come ribadito nel corso dell'incontro l'accordo potrà contribuire alla sua rilancio attraverso contratti concordati di locazione che rispecchiano le esigenze di proprietari e conduttori e consentono un rilevante risparmio di imposta con l'acidolare secca al 10% e con la riduzione di imu e tasse del 25% è un risultato importante perché consentirà ai proprietari e agli stessi inquilini di sottoscrivere un contratto di locazione che avrà delle agevolazioni per entrambe le parti ricordo l'imu e la tasse al 25% quindi una scontistica una riduzione quantomeno delle relative imposte oppure ricordo anche la possibilità di utilizzare l'acidolare secca al 10% quindi agevolazioni fiscali esistono appunto sono previste le agevolazioni fiscali che sono relative e successive a questa convenzione che abbiamo sottoscritto con le associazioni che rappresentano sia i proprietari che gli inquilini e che quindi porteranno al nostro territorio una possibilità di ricorrere ai contratti di locazione con dei canoni agevolati in relazione alle unità immobiliari presenti nelle diverse zone ci saranno dei canoni che ovviamente saranno relative corrispondenti anche agli indicatori che si trovano presso l'agenzia delle entrate però sono più bassi rispetto a quelli che oggi applicano utilizzando i contratti normali insomma inoltre c'è la possibilità di sottoscrivere dei contratti educazioni che sono di durata diversa tipo il 3 più 2 piuttosto che il 4 più 4 oppure dei contratti per gli studenti universitari dei contratti temporanei e fino ad oggi non era prevista questa possibilità e si chiama La tartaruga va a scuola ed è un progetto di educazione ambientale che parte da Castrovillari Si chiama La tartaruga va a scuola ed è il progetto di educazione ambientale realizzato dal reparto biodiversità dei carabinieri forestali di Cosenza realizzato in collaborazione con i Lions Club di Castrovillari e Cosenza Rovito Silla Greca si tratta dell'affidamento temporaneo di tartarughe di terra ad alcune scuole primarie della provincia di Cosenza Chiaramente è un progetto di educazione ambientale che come l'Ans abbiamo sposato pienamente e che verrà poi il personale che ringraziamo appunto del reparto biodiversità di Cosenza venire nelle scuole e fare delle vere e proprie lezioni di educazione ambientale in particolare spiegare questo mondo particolare che è questo splendido animale Sono le classe quarti quelle che sono state individuate per il progetto faranno degli elaborati ci sarà una giuria la classe che vingerà dovrebbero essere oltre 20 le classi in tutta la provincia i Lines offrono un viaggio premio all'OASI WWF di Policolo dove potranno vedere varie specie di tartarughe tra i quali quella marina le tartarughe microcippate sono state date in affidamento temporaneo a sette scuole che hanno aderito al progetto per poi fare ritorno al cupone a maggio tre le scuole di Cosenza una di Cropalati e tre di Castrovillari un percorso formativo che li avvierà a conoscere diciamo questo mondo di questo animale così interessante così silenzioso però anche che ha un suo fascino insomma parliamo adesso di sport che ci porta a Reggio Calabria dove si sono svolti proprio le qualificazioni nazionali di Judo esordienti B impegno e concentrazione queste le parole d'ordine per i 28 atleti provenienti da tutte le province calabresi che hanno partecipato alle qualificazioni del campionato italiano esordienti B di Judo svoltesi nella sede regionale della Filcam un evento sportivo importante che ha stilato la classifica dei campioni regionali che rappresenteranno la Calabria alle finali nazionali in calendario a Roma nei prossimi 1 e 2 dicembre a partire saranno in 15 e incontreranno gli atleti qualificatisi nelle altre regioni e nei diversi campionati nazionali suddivisi per categorie di genere e peso come da regolamento federale i Judo che a tutti i nati tra il 2004 e il 2005 si sono affrontati sul tatami con l'obiettivo di raggiungere la capitale alla conquista del titolo più prestigioso incontri appassionanti che hanno messo in mostra il meglio del Judo calabrese uno sport di combattimento dinamico e completo praticato da milioni di atleti in tutto il mondo proprio dalla Calabria hanno mosso i primi passi alcune delle più valide atlete negli ultimi anni come Rosalba Forciniti medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e Sofia Petito già medaglia d'argento ai mondiali di Sarajevo nel 2015 e neomedaglia d'oro negli African Judo Open a Dakar uno sport che richiede velocità tecnica che è a forza ma anche tanta concentrazione e che infonde in chi lo pratica una filosofia che inevitabilmente si riversa nella vita quotidiana dove il rispetto per l'altro è al centro di tutto adesso vediamo le previsioni del tempo L'Italia continua ad essere interessata da una fase di maltempo causata dalla presenza di un'area di bassa pressione presente sul Mediterraneo centrale sulla nostra regione l'attivazione di correnti meridionali umili e instabili causeranno un rialzo delle temperature che ritorneranno ad essere leggermente al di sopra delle medie stagionali e piogge sparsi anche a carattere di rovescio temporale passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria mercoledì sui versanti terrenici insisteranno una residua di stabilità sui versanti ionici il cielo per lo più parzialmente nuvolosi senza fenomeni di rilievo temperature stazionarie e adesso analizziamo lo stato di mari e venti mercoledì mari generalmente emossi con venti che spiereranno le quadrante occidentali sul mar Tirreno e meridionali sul mar Ionio ed infine prima di salutarci vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina facebook metincalabria anche per noi è tutto io mi fermo qui grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci arrivederci cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app e buon proseguimento e buon proseguimento e buon proseguimento che si è buon proseguimento